Paura ma nessun ferito nel quartiere San Giacomo dell'Aquila dove ieri sera pezzi di calcestruzzo sono volati giù dal viadotto della 24 che attraversa quella zona del capoluogo. Già nella serata di ieri i vigili del fuoco chiamati dai cittadini allarmati hanno rimosso pezzi di calcestruzzo pericolanti per circa 200 metri sotto il viadotto, inviando una relazione sia alla prefettura che al comune che a strada dei parchi nella quale, tra le altre cose, rilevano il degrado strutturale delle calcestruzzo e dei ferri ormai ossidati. Una squadra di operai e tecnici della concessionaria sta lavorando sul viadotto della Roma Teramo e per farlo è stata disposta la chiusura della sottostante via Gabriele Rossetti. Secondo fonti di strada dei parchi riportate dall'ANSA, la concessionaria di A24 e A25 verificherà nel corso dell'azione se si dovrà utilizzare il by bridge, cioè il ponteggio sospeso, con il quale si è intervenuti nel corso della messa in sicurezza attuata negli ultimi mesi. Nel frattempo si procederà anche a nuove verifiche sulla staticità del manufatto, che ieri sera ha dato comunque esito positivo, tanto che l'autostrada è rimasta aperta. Quanto è accaduto è la conseguenza delle modalità di gestione delle infrastrutture pubbliche in questo Paese, massimizzare i profitti in capo ai privati e scaricare sugli enti territoriali tutti i problemi e le responsabilità in un sistema di assoluta mancanza di collaborazione tra i livelli dello Stato. Sono queste le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Il primo cittadino ha sottolineato anche che due mesi fa questo fatto sarebbe passato sotto silenzio, ma il crollo del ponte Morandi a Genova nella sua drammaticità ha aumentato la consapevolezza sulle infrastrutture pubbliche. Biondi, nei giorni successivi alla tragedia di Genova dello scorso 14 di agosto, aveva scritto una lettera a strada dei parchi per chiedere lo stato di sicurezza di A24 e A25 e per conoscere gli interventi in atto. La concessionaria aveva risposto che sono previste manutenzioni con un piano specifico e che le arterie sono attualmente sicure anche se il rischio scatta per eventuali nuove scosse di terremoto.